buongiorno dagli studi di obiettivo news oggi 9 marzo e santa francesca romana oggi si celebra la giornata mondiale del rene campagna globale volta ad aumentare la sensibilizzazione sull'importanza dei nostri reni ritorna ogni anno in tutto il mondo allo scopo di creare consapevolezza sui comportamenti preventivi sui fattori di rischio e su come convivere con una malattia renale oggi anche la giornata mondiale del dj l'istituzione di questa ricorrenza risale al 9 marzo del 2001 e a renderla ufficiale è stata anche l'unesco a partire poi dall'anno successivo il 2002 nell'ambito del dj day si tiene un evento di beneficenza in tutto il mondo in cui proventi andranno ad aiutare varie organizzazioni per l'infanzia tutti i profitti guadagnati da dj club stazioni radio e etichette discografiche in questo giorno vanno a vari fondi per istituzioni internazionali per i bambini a